bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e oggi ragazzi mamma mia ragazzi abbiamo delle super mega robe bella sugose trovate relative alla nuova carta di clash royal lo sappiamo ragazzi l'hanno reso ufficiale ne ha parlato anche ovviamente il nostro dragon stick sul suo ultimo video clash royal avrà una nuova carta leggendaria leggendaria ragazzi il mago arciere ci hanno fatto vedere l'immagine che c'è alle mie spalle messo molto in posizione wasabi zen direi zen ma in realtà questa notte direttamente il team ufficiale di sviluppo di clash royal ha rilasciato katan questa immagine ragazzi eccolo eccolo qua sembrerebbe dovrebbe essere proprio l'immagine ufficiale è stata appunto rilasciata come vi dicevo in un post pubblico e questo ragazzi non è nient'altro che la nuova faccia del mago arciere sappiamo solo sembrerebbe che costi 3 di elisir che è una carta leggendaria e che verrà introdotta nel prossimo aggiornamento almeno questo è quello che si sapeva fino a qualche ora fa ragazzi poi lo xyuder è andato a snasare un po in giro e ho trovato ragazzi dei gameplay non ufficiali ma anche gli altri miei video con i gameplay poi si sono rivelati veritieri che parlano appunto di questa nuova leggendaria prima di andare a farveli vedere però dai che lo so che lo sai dai che lo so che lo sai un bel pollicione in su ragazzi se vi sta piacendo questo video mi raccomando non vi costa niente iscrivetevi anche al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che è relativo a clash royale e a rules of survival va bene va bene va bene ragazzi catten piano che non è un'immagine è un video ragazzi guardalo lì sul ponte colore viola arco in mano ragazzi dall'altra parte al centro vediamo una princess andiamo a vedere assieme che cosa succede ragazzi guardalo qua guardalo qua lui stende scocca la freccia molto più velocemente pronk e prende la princess di prepotenza lo vediamo anche qua ragazzi sul ponte eccolo che si permette di arrivare al limite e comincia a frecciare ne ha già tirate due tre non si sa perché c'è un 12 gli sarebbe due no 12 il livello è sovrapposto credo gli ha tirato 4 hit alla torre ragazzi di nuovo lo vediamo centrale contro un mega sgherro all'otto eccolo lì 12 non è velocissimo a tirare ragazzi è rallentato il video non è che così piano attenzione guardatevi che poi vi prendete a male attenzione ancora guardalo 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 lì come scocca le frecce davanti il fantasma ragazzi e parte la mega combo mago arciere fantasma vediamo un pochettino cosa succede niente niente più di così non avevamo ragazzi questi sono proprio degli estratti tipo il brodolio filizzato di gameplay che sembrerebbe siano relativi al nuovo mago arciere ovviamente ragazzi se dovessi trovare qualcos'altro non esiterò a portarvelo beh ragazzi direi che per questo video è veramente tutto io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti qua condividetelo con tutti i vostri amici mi raccomando un bel pollicione in su e noi ci vediamo presto ciao